sono sandra baruzzi insegnante di design arte della ceramica presso il liceo 25 aprile faccio di castellamonte e con piacere per l'evento di buongiorno ceramica 2020 online vi presento a nome di tutto il collegio docenti il progetto porte aperte all'arte demoni mostre ed altre meraviglie a cura di mircon nicolò ti ringrazio immensamente per la sua generosità e professionalità desidero sottolineare l'importanza di avere artisti e designer operativi all'interno dei liceo artistici che lasciano traccia personale del loro pensiero e del loro fare in ceramica che coinvolgano individualmente ed emozionalmente arricchendo il bagaglio personale di ogni studente mi chiamo mirco de nicolò sono un artista visivo qualche mese fa a castellamonte ho incontrato gli studenti del quarto anno del liceo artistico a questi studenti ho proposto una tecnica e un tema e su questa tecnica che è una tecnica ceramica e sul tema che consiste nel guardare e dare forma a mostri demoni e creature fantastiche abbiamo lavorato un paio di giorni i risultati sono quelli che vedete in questo breve video io ho dato a loro uno strumento uno strumento per parlare uno strumento per rappresentare per lavorare e loro mi hanno ricomenzato dandomi un immaginario e una serie di figure che non conoscevo prima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti